Star internazionali e giovani talenti sul palco di Umbria Jazz, storico festival arrivato alla quarantesima edizione. Sentiamo Emma Farnet. Elegante la voce di seta, Diana Crola Umbria Jazz, il festival che 17 anni fa l'ha lanciata in Italia. Sul palco di Perugia non solo star internazionali, ma anche giovani talenti italiani. Gianluca Pellerito ha le bacchette in mano da quando aveva tre anni. A soli 19 è uno dei batteristi più richiesti sulla scena jazz internazionale. Un successo che aveva già conquistato a New York, appena adolescente. Tanti gli artisti in cartellone fino al 14 luglio, per una città che diventa un palco a cielo aperto e una calamita anche per turisti stranieri. Non è vero, è vero, è vero, è vero. Grazie.